Attività addestrativa di ricerca e soccorso oceanico Marcello Dudovic, pochi giorni al termine della mostra al Palazzo dell'Aeronautica Apriamo il nostro video news quest'oggi con un approfondimento sul Sarro Oceanico una delle molteplici capacità svolte dall'Aeronautica Militare con il velivolo C-130J in dotazione alla 46esima Brigata Aerea i dettagli nel servizio realizzato dal Tenente Colonnello Sammaciccio Nei giorni scorsi la 46esima Brigata Aerea di Pisa ha condotto nella zona del Golfo della Spezia un'attività addestrativa di ricerca e soccorso oceanico Il Sarro Oceanico è una delle capacità attraverso le quali l'Aeronautica Militare assicura le proprie funzioni nell'ambito del soccorso aereo L'attività di Sarro Oceanico è stata sviluppata totalmente in ambito Forza Armata dal reparto sperimentale di volo e messa in servizio grazie alla certificazione tecnico-operativa Si tratta di un'attività assicurata dalla 46esima Brigata Aerea che prevede l'assistenza nel minor tempo possibile all'equipaggio di un velivolo aerotattico che si sia agliettato in mare in seguito a navaria La missione inizialmente consiste nella ricerca e localizzazione del naufrago Una volta individuato vengono lanciati dal velivolo dei fumogeni che consentono all'equipaggio di marcare la zona del naufrago e renderla visibile anche da lontano Successivamente l'equipaggio provvede a lanciare la catena SAR che è un dispositivo contenente al suo interno un battello che si gonfia in pochi secondi una volta che entra in contatto con l'acqua Al suo interno il battello contiene dei dispositivi necessari alla sopravvivenza tra cui cibo, kit di pesca, dissalatore necessario a rendere potabile l'acqua marina delle coperte isotermiche e dei fumogeni di segnalazione Vista l'importanza e la complessità della missione l'equipaggio del C-130 deve essere altamente addestrato La preparazione della missione deve essere molto accurata e viene svolta con il supporto dei consubi della marina militare che curano la parte in mare di simulazione del naufrago In questo tipo di missione la tempestività nell'intervento e l'affiatamento tra i membri dell'equipaggio è fondamentale Rappresenta la linea di demarcazione tra il successo e il fallimento della missione e quindi il salvataggio di vite umane Mancano pochi giorni alla chiusura della mostra dedicata al pittore e cartellonista triestino Marcello Dudovic che dal 1931 al 1933 ha realizzato nel Palazzo dell'Aeronautica bellissimi dipinti murali La mostra, ospitata dai primi giorni di maggio nella sede istituzionale della Forza Armata terminerà l'11 luglio In esposizione più di 200 opere dell'artista e del suo collaboratore Walter Resentera oltre a documenti, foto e cimeli provenienti da prestatori e collezioni italiane pubbliche e private La mostra è visitabile esclusivamente su prenotazione il sabato, la domenica e nei giorni festivi nel pieno rispetto della normativa anti-covid Prima di chiudere vi mostriamo le immagini del suggestivo concerto dal titolo Il Palazzo con le ali che si è svolto ieri nella sede istituzionale dell'Aeronautica Militare a Roma Un evento che rientra nelle celebrazioni per il novantesimo anniversario dell'inaugurazione del palazzo che fu costruito in tempi da record Grazie per averci seguito, vi diamo appuntamento alla prossima settimana Buon weekend! Grazie 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 Grazie